Vediamo come realizzare questo pezzo meccanico su AutoCAD. Andrò a realizzare innanzitutto vari cerchi concentrici, 5 cerchi, rispettivamente con raggio 10, 13, 18, raggio 66 e raggio 41. Vi dico subito che qui in questo disegno a mio parere mancano delle quote, soprattutto questa qui rispettivamente a questo cerchio, che qui è praticamente un foro non passante, non è quotata all'altezza, quindi praticamente c'è questa dimenticanza. È un disegno particolare, quindi io volevo realizzarlo comunque, quindi andrò a fare questo cilindro alto 15 e poi andrò a sottrarlo. Dato che tutto è 20, probabilmente questo è 15 o poco di più, però poco cambia. Quello che ci interessa è andare a realizzare, imparare a disegnare, quindi questo non è un pezzo che andremo poi a realizzare con una macchina CNC, con una fresatrice, che poi magari avrà appunto delle misure sbagliate. Quindi per quanto ci riguarda l'esercitazione la possiamo svolgere comunque, anche se non c'è questa quota, che avranno sicuramente dimenticato di inserire. Allora, andiamo su AutoCAD, clicchiamo su inizia disegno e io per abitudine la griglia proprio la detesto, quindi la disattivo sempre e attivo orto. Dalla scheda disegna andiamo ad attivare il comando cerchio centro raggio. Il punto, specificiamo ovviamente un punto a caso nella nostra area di lavoro, primo raggio 10 e premiamo invio. Ovviamente abbiamo bisogno di zoomare con la rotellina del mouse. secondo cerchio 13 con la barra spaziatrice ripeto il comando e quindi 18 abbiamo detto 66 e poi ce n'è uno un po' più piccolo di 41 perfetto una volta realizzati questi cerchi andiamo a creare questa forma qui per poterlo fare realizzerò una linea inclinata di 60 gradi poi farò lo specchio comando linea ovviamente la linea parte dal centro vado a scrivere chiocciola, che significa coordinata relativa 66 minore di 60 gradi e premiamo invio dalla scheda edita attiviamo il comando specchio clicchiamo su questa linea premiamo invio clicchiamo in questo punto e in quest'altro cancellare gli oggetti sorgente? ovviamente no l'oggetto sorgente in questo caso era questa linea qui comando taglia invio tagliamo tutta questa parte di cerchio che al momento non ci serve più cosa posso fare adesso? posso andare a utilizzare il comando serie polare che trovo nella scheda edita cliccate sulla freccetta e attivate serie polare seleziono questi tre elementi premo invio clicco qui al centro come centro della serie polare ovviamente gli elementi non sono sì ma solo tre quindi da questa finestrella ci basterà cliccare su tre elementi cliccare sotto per aggiornare l'anteprima stare attenti che sia disattivo associativo e cliccare su chiudi serie adesso da qui scenderemo con una linea lunga 15 quindi magari la facciamo di un altro colore così è più evidente da questo spigolo ovviamente per poter scendere disattivo orto vado verso questa parte 15 invio stessa cosa faccio qui vado verso questa parte 15 invio e poi unisco i due punti finali di queste due linee rosse adesso dobbiamo fare qui un raccordo qui un raccordo e qui un raccordo quindi raccorda ovviamente se volete disattivate il colore rosso rimettete da layer raccorda ci chiede di selezionare il primo oggetto e poi ovviamente il secondo oggetto però prima dovete inserire il raggio quindi clicco sul raggio vado a vedere velocemente il mio disegno e vado a vedere i raccordi allora qui c'è un raccordo con raggio 15 e qui sopra c'è un raccordo con raggio 5 ovviamente anche dall'altra parte sarà la stessa cosa quindi raggio 15 invio vado a raccordare questo con questo questo con quest'altro di nuovo raccorda ho ripetuto il comando sempre con la barra spaziatrice raggio abbiamo detto 5 quello più piccolo e andrò a raccordare praticamente anzi questo diciamo ci conviene forse farlo dopo adesso facciamo creiamo questo cerchio in modo tale poi da fare la serie polare insieme a tutta questa parte rossa un'unica volta quindi io per creare questo cerchio qui dal centro salirò di 53 e poi creerò un cerchio con raggio 6 lo vediamo quotato qui quindi una cosa molto semplice linea dal centro salgo con orto attivo ovviamente di 35 anzi di 53 comando cerchio centro raggio clicco qui questo è il centro il raggio è 6 la linea la cancellate subito tanto già non ci serve più ci serviva solo per trovare il centro di questo cerchio come ho detto prima facciamo un'unica operazione altrimenti dovremmo ripetere poi il comando serie serie selezionare gli oggetti uno è questo uno è questo pezzettino di linea rossa questo raccordo questa linea questo raccordo e quest'altra linea premiamo invio il centro della serie è sempre questo qui gli elementi non sono 6 ma abbiamo detto sono 3 e clicchiamo sotto per aggiornare l'anteprima vado a fare chiudi serie e adesso possiamo cancellare queste linee che non ci servono più quindi ci ho cliccato semplicemente sopra e poi vado o sulla gomma matita con la gomma qui su cancella oppure cancio da tastiere la stessa cosa come vedete qui dobbiamo fare il raccordo che dicevamo prima raccorda raggio l'avevamo già impostato prima 5 invio e andiamo a raccordare questo pezzettino con questo e sempre con barra spaziatrice andate a ripetere il comando perfetto è ovvio che questa parte tutto questo perimetro non è una regione quindi dovremo creare poi successivamente anche la regione diciamo dalla parte 2D abbiamo terminato quindi creiamo subito la regione reg da tastiera io per comodità seleziono tutto con una finestra di selezione ma in realtà i cerchi sono già delle regioni quindi non ero obbligato a selezionarli e premiamo invio come vedete ha anche cambiato colore in questo caso è diventato tutto bianco perché qui è rimpostato colore da layer bianco e questa è diventata un'unica regione ci possiamo spostare in SO assonometrico quindi dalla vista dall'alto andiamo in SO assonometrico come sapete già se avete seguito degli altri video il passaggio successivo ovviamente è quello di dare un'altezza a queste regioni che praticamente dobbiamo attivare il comando estrudi ovviamente non selezioniamo tutto perché ogni elemento avrà la sua altezza ad esempio questa parte qui è alta 20 questi qui sono dei furi passanti li vediamo qua tratteggiati e sono quindi ovviamente alti 20 quindi noi andiamo a fare questa prima selezione questo qui e questi tre furi invio andiamo verso l'alto di 20 è ovvio che non andiamo a fare adesso sottrai lasciamo questi cilindri all'interno del nostro solido qui più grande perché poi lo faremo successivamente quindi risparmieremo diciamo qualche comando qualche passaggio con barra spaziatrice ripeto estrudi questo qui invio teoricamente avremmo dovuto trovare la quota qui però non è quotato se tutto è 20 supponiamo tanto il discorso l'abbiamo fatto già prima supponiamo che questo sia 15 e quindi salirò semplicemente di 15 barra spaziatrice per ripetere il comando estrudi allora qui abbiamo questo cilindro qua più grande di quelli centrali ossia questo che sporge di 35 però ci dobbiamo sempre ricordare che noi partiamo dal fondo quindi dobbiamo fare 35 più 20 lo dobbiamo estrudere di 55 quindi seleziono questo invio verso l'alto 55 ok stesso discorso lo dobbiamo fare per questi due che rispettivamente cioè questo qua questo diciamo intermedio qui in questa parte qua sporge di altri 15 quindi ai 55 di prima dobbiamo sommare altri 15 quindi dal fondo ci dovremmo alzare di 70 cioè la somma di 20 più 35 più 15 siccome questo al centro non è un cilindro alla fine non sarà un cilindro ma sarà un foro passante in questo caso qui anzi non è passante mi accorgo da qua quindi questo semplicemente quindi è un foro cieco perché come vedete finisce qui il tratteggio finisce qui quindi lo dobbiamo spostare non lo dobbiamo realizzare sul fondo allora noi adesso prendiamo estrudi questo qui invio e abbiamo detto saliamo di 70 perfetto semplicemente questo lo spostiamo quindi lo seleziono tasto destro sposta ovviamente il punto base sarà il centro e lo farò coincidere con questo quindi l'ho semplicemente spostato non andava bene costruirlo sul fondo quindi voi lo potete costruire poi direttamente qui sopra ovviamente sempre dobbiamo attivare il comando estrudi in questo caso non andate verso l'alto ma andiamo verso il basso ovviamente dobbiamo arrivare fino a qui quindi se stiamo qui sopra con il nostro cerchio dobbiamo fare 15 più 35 praticamente è sempre la stessa quota di prima quindi torniamo su AutoCAD 50 invio adesso siamo pronti diciamo già a fare una prima sottrazione quindi io andrò a scrivere sottrai invio qui mi chiedi selezionare gli oggetti beh da questo solido e da questo e anche da quest'altro quindi ho selezionato tutto questo solido più grande questo cilindro che era alto praticamente abbiamo detto 55 poi quest'altro qui che era alto 70 invio beh da questi tre solidi che ovviamente una volta fatta questa operazione diventeranno un unico solido voglio sottrarre uno due tre cilindri quattro cilindri cinque cilindri premiamo invio adesso impostiamo un attimo in realistico così ci rendiamo conto di ciò che abbiamo fatto praticamente andando a fare l'operazione sottrai sono diventati un unico solido abbiamo creato un foro passante un foro passante un foro passante un foro cieco qui fino al fondo praticamente fino a questa altezza qua e di qua un altro furo ciccono ok non l'abbiamo terminato ovviamente quindi rimettiamo il wireframe rimettiamo da vista personalizzata l'SO assonometrico ci spostiamo un po' cliccando con la rotella del mouse ci possiamo spostare torniamo ad osservare il nostro progetto e come vedete qui ci sono tutti questi cilindri sono praticamente 12 cilindri ce ne sono due uno sopra l'altro e per poterli realizzare abbiamo bisogno qui praticamente del raggio anche in questo caso hanno omesso di mettere il raggio cioè bastava mettere il raggio fino al centro dei nostri cilindri qui ma non l'hanno messo a mio parere questi due si trovano praticamente il centro di questi cilindri si trova a metà tra questo raggio e questo quindi dobbiamo semplicemente fare raggio 41 meno raggio 18 otteniamo praticamente 23 che è la distanza tra questo e questo e andare a sommare a questi 18 appunto la metà di 23 quindi 18 più la metà di 23 che è 11 e mezzo 29 e mezzo cioè da qui un raggio di 29 e mezzo per trovare il centro di questi cerchi che poi diventeranno appunto dei cilindri oppure in questo caso noi andiamo a realizzare direttamente i cilindri tanto stiamo già in SO assonometrico quindi lo facciamo diciamo col colore rosso così è più evidente cerchio centro raggio ecco qui il nostro centro e andiamo a fare un bel cerchio con raggio abbiamo detto 29.5 e premiamo invio comando linea dal centro faccio una linea fino praticamente al centro del nostro foro qui in modo tale da ottenere un'intersezione tra questo cerchio e questa linea qui andremo a piazzare i due cilindri quindi cambiamo colore scriviamo cilindro da tastiera specificare il centro della base del nostro cilindro bene il centro è questo il raggio della base torniamo al nostro disegno i cilindri avranno uno raggio 6 e uno raggio 3 che costruiremo successivamente e da qui andiamo a vedere le altezze allora quello di raggio 6 avrà un'altezza di 10 quindi 6 invio vado verso l'alto 10 invio una volta fatto questo è ovvio che questa linea e questo cerchio possiamo semplicemente cancellarli di nuovo cilindro l'altro lo costruiamo direttamente sopra quindi vado nel quadrante vado verso il centro in modo tale da individuare lo snap questo era 3 di raggio e altezza sempre verso l'alto andiamo 5 invio impostiamo un attimo il realistico ecco cosa abbiamo creato come vedete sono due solidi che sono in un certo senso staccati da questo cioè sono appoggiati sopra però sono solidi completamente diversi non è un unico elemento un unico solido cosa dobbiamo fare adesso beh come abbiamo fatto prima per creare tutti questi eccetera eccetera utilizzeremo sempre serie polare quindi serie polare forse la prima volta o lo utilizziamo per il 3d selezioniamo questi due invio il centro della serie polare è questo e gli elementi siamo fortunati sono già sei qua selezionati quindi basta fare chiudi serie realistico abbiamo creato tutti questi ce ne sono ce n'è qualcuno qua dietro nascosto che ovviamente non vediamo cosa dobbiamo fare noi adesso unione quindi scriverò semplicemente unione selezioniamo tutto e premiamo semplicemente invio adesso passando sui cilindri si illumina tutto perché è un unico solido diciamo per realizzare questo progettino qua questo pezzo meccanico ci siamo dovuti un po' adattare ovviamente siamo andati un po' contro le regole del disegno tecnico cioè non possiamo improvvisare questo deve avere un'altezza ben precisa abbiamo fatto 15 questo li abbiamo piazzati diciamo al centro tra questi due raggi invece in realtà avremmo dovuto avere diciamo una misura ben precisa però lo scopo dell'esercitazione era realizzare questo imparare ad utilizzare i comandi di autocad alla prossima